Mosca si dice favorevole a una mediazione statunitense nel conflitto in corso nell'Ucraina orientale, pur ribadendo la distanza tra il proprio punto di vista e quello di Washington. Questo primo segnale di un ammorbidimento della posizione russa giunge dopo l'incontro a Pechino tra il segretario di Stato americano John Kerry e il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Siamo in disaccordo nel giudicare i fatti che accadono in Ucraina, ha detto Kerry durante i lavori preparatori del forum dell'APEC, ma abbiamo concordato di scambiarci le informazioni e abbiamo anche deciso che questo dialogo debba proseguire. Lavrov non ha confermato né smentito l'accusa di Kiev, secondo cui Mosca avrebbe infiltrato in territorio ucraino mezzi blindati e soldati. È stata siglata una tregua tra i ribelli e il governo ucraino, ha detto, sta a loro concordare quale siano le tappe per un disarmo ed è ciò che sta accadendo. Nelle regioni separatiste di Donetsk e Luansk, gli scontri a fuoco si sono inaspriti nell'ultima settimana, a riprova di quanto le elezioni indette domenica scorsa dai filorussi abbiano reso ancora più fragile il cessato il fuoco concordato a settembre.